Ciao a tutti amici, veramente la mia associazione è molto delicata, dunque oltre al passato che ho, degli amori non dati male, insomma che io ho fatto una figura del cazzo con tutte, mi viene attribuito anche al passato che non ho, almeno così io penso e farò ascoltare il mio pezzo. Grazie a tutti. Io so che le mie sono tutte paranoie dovute alla solitudine, però mi fanno soffrire, il cuore mi sto curando. Grazie a tutti. Va bene, spero di essere stato esauriente, io uso questo mezzo internet come un confessionale. quanto parlo dell'amore, parlo dell'amore per la vita che non avendo lavorato mi è venuto a mancare, essendo un po' un assolutatore dell'umanità, perché c'è chi va lavorare al posto mio. Vabbè questo, non devo dire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.